Ciao, sono Giulio Cabocci e sì, sì, lo ammetto onestamente, il titolo, se avete visto anche la copertina di questo video, è abbastanza folle. Tranquilli, in questo video non vi farò ascoltare dei bassi sott'acqua, ma in realtà i bassi e l'acqua sono due argomenti molto importanti parlando di lui. Quindi questo TronSmart Element T6 Plus, che è l'evoluzione del T6, di cui vi rimando qui sopra, che è uno speaker che ha attirato tantissimo interesse. Quel mio video ha fatto 30.000 visualizzazioni, quindi insomma questi speaker belli, ricchi di bassi, effettivamente vi interessano un bel po'. E lui i bassi ce li ha e come, ma per l'appunto non solo, ma andiamo per ordine iniziando come sempre dall'unboxing. Pronti allo spellicolamento, ecco qui la confezione con i classici colori della TronSmart, quindi questo viola e l'arancione. Vediamo se ci riesco senza coltello, ma sì, silenzio. Fa sempre bello togliere le pellicole che spostiamo fuori in quadratura. La confezione dovrebbe essere esatto, deve scivolare. E voilà! Ecco qui il nostro ragazzone. Lo vediamo subito. Ah, wow! Bella subito la sensazione al tatto, si intravedono in controluce i due driver, poi mi vado a studiare, e tutti i controlli, bello che sono tanti. E il volume come si controllerà? Mi sa che si controlla qua su. Quindi un bel po' di controlli, sia per le tracce, equalizzazione e qualcosa qui sotto. Oh, wow! Insomma, tutto bello da studiare, ma vediamo cos'altro c'è. In dotazione, abbiamo qua sotto, sì, c'è un bel po' di robina. Abbiamo un cavetto semplice, non particolarmente bellino, mini jack stereo da ambo i lati. Il cavetto con l'USB di tipo EC, molto molto bene. E lasciamo qui. La garanzia, semplicissima. E il libricino. Vediamo un po' le lingue. E c'è l'italiano. Fa piacere trovare che c'è, sì, proprio l'italiano. Adesso vado quindi a studiarmi le istruzioni, metterlo in carica, e poi vediamo un po' a cosa servono tutti questi tasti qui. Notevole la plancia comandi, ovvero questa bella sfilza di pulsanti che troviamo effettivamente su questo speaker. Tanti altri, la concorrenza, si affidano a un paio di tasti con doppia pressione, pressione lunga. Qui c'è un tasto per ogni singola funzione. Tasti che sono a membrana, perché ricordiamolo, lui è IPX6, quindi resiste a spruzzi d'acqua. Come anche giusto, lo sportellino su cui dopo andiamo a guardare con più attenzione deve essere ben chiuso, ben pressato, per evitare infiltrazioni d'acqua. Andiamo a premere il tasto di accensione e sentiamo i suoni di accensione. Abbiamo sentito appunto il suono di accensione, il bip bip che ci dice l'aggancio Bluetooth e vediamo questa lucina blu qui sopra anche abbastanza high tech. Per chi mi segue su Instagram avrà già visto questa foto, in cui appunto vi dicevo, indovinate un po' a cosa serve questa manopolona su cui c'è indicati questo più meno 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 meno. Giustamente è il controllo del volume, mi raccomando, seguitemi su Instagram come gianluca.bocci. E il controllo del volume purtroppo qualche problema lo dà. Faccio partire un po' di musica sul mio cellulare, il solito brano che già conoscete. E vedete che con una pressione l'ho messo in pausa. Doviste notato prima che mentre abbassavo il volume, alcuni movimenti non corrispondeva a alcuna variazione del volume. Purtroppo questo è uno dei suoi pochissimi punti deboli. Il controllo del volume, pur avendo dei piccoli click quasi impercettivi, ma comunque io riesco a distinguerli, ad ogni singolo click non corrisponde una variazione del volume. Quindi conviene al solito girare forte per alzare il volume o girare forte per abbassare il volume, perché se facciamo piccoli movimenti non succede assolutamente nulla. Mentre è molto comodo, avete visto, lo faccio rivedere. Tutta la manopola può essere schiacciata e serve sia per il play-pause, sia giustamente per rispondere alle chiamate, ma anche per attivare l'assistente vocale con una pressione lunga. Che ore sono? Sono le ore 9.12. E come vedete funziona tutto molto bene. Torniamo sulla plancia comandi e appunto, come dicevo prima, abbiamo tasti dedicati per traccia indietro, traccia avanti, per attivare il true wireless stereo, ovvero possiamo comprarne un secondo e utilizzarne due, uno per il canale destro, uno per il canale sinistro. Molto, molto importante il tasto EQ. Abbiamo tre equalizzazioni a disposizione. Vedete questa lucina? Quando è spenta ci indica che siamo sull'equalizzazione vocal, ovvero la voce messa in evidenza. Non è vero. In realtà però l'equalizzazione vocal è quella più equilibrata, come vi dirò tra poco, quella che io vi consiglio. I bassi ci sono e sono giusti. Se vogliamo più bassi, premiamo una volta, la lucina diventa bianca. Questo è il 3D Deep Bass. Il, appunto, questo basso profondo tridimensionale, effettivamente il basso viene pompato un bel po' di più. Ancora una pressione, la luce diventa verde, è l'Extra Bass. Onestamente questo ve lo consiglio, perché l'Extra Bass cosa fa? Per rendere i bassi ancora più uns, 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 e quindi vanno bene se vi piacciono dei generi tipo house, ok. Ma in realtà cosa fa? Ammazza i medi e gli alti, quindi io ve la sconsiglio. Utilizzate o la vocal, lucina spenta, oppure la 3D Deep Bass, lucina bianca. Quella verde per me da evitare. Ma andiamo avanti. Il tasto M permette di alternare i vari ingressi. Perché sì, lei ha vari ingressi. Ah, giustamente, il Bluetooth, ma qui sotto, ricordiamolo, abbiamo l'ingresso minicheck stereo. Non so, ci andiamo a prendere un Echo Input e quindi lo utilizziamo con Alexa. Possiamo mettere una pennetta USB con i nostri file MP3, ma anche una microSD con i nostri file MP3. Poi vabbè, ovviamente questa è l'USB-C per la ricarica, ma c'è una chicca. Se io prendo un cavo USB e lo collego qui, e vado a prendere il mio telefono, e lo collego, se ci riesco. Che è successo? Eccolo qui. In carica, 89%. Lui al suo interno ha una batteria, una signora batteria da 6600 mAh, che può essere utilizzata, diciamo, per donare carica. E, in fondo, qual è la cosa importante davvero davvero? Il suono. Andiamo ad ascoltarlo insieme. Prima di affrontare l'ascolto del solito brano di prova, se siete nuovi sul canale spiego qui sopra il perché della scelta del mio brano di prova, c'è da dire come veniamo ascoltati, che giustamente lui ha anche un viva voce, ma ha qualche problema. Ma probabilmente, non ne sono sicuro, al 1000x1000, questo dovrebbe essere il microfonino. E siccome lui è PX6, questo microfonino ha qualche problema. Nel senso che se noi siamo letteralmente a queste distanze a cui mi vedete, quindi diciamo un 40, massimo 50 cm di distanza, la voce, va bene, è distinta, anche se risulta un po' metallica. Ma appena superiamo quel mezzo metro, la nostra voce davvero diventa difficile da essere distinta. Quindi, se lo stiamo utilizzando in sdraia davanti alla nostra piscina, sarà bene tenerla sul tavolino lì a portata di mano dove teniamo il nostro cocktail. Perché se lo teniamo appena più lontano, insomma, come conversazione telefonica, sarà davvero molto sgradevole. Ma adesso passiamo al brano e ovviamente lo tengo in mano per farvi vedere come si muove questa parte qui. Che è la parte divertente, perché appunto lui al suo interno, anzi vi mostro questo schema, ha due driver. Due full range, che vengono accreditati da 20 W ognuno, ragazzi, non è poco. E due driver passivi, uno nascosto nella parte alta e uno invece molto molto evidente qui nella parte bassa. Fatta molto bene poi questa parte bassa, che questi piedini permettono appunto di tenerlo in verticale, che la sua giusta posizione d'ascolto, non tenetelo su un fianco dove comincia a andarvi a spasso la sua scrivania, deve essere messo in verticale e quindi lo tiene fermo, ma comunque con degli sfoghi per l'aria. Quindi i bassi, come appunto vi dirò tra poco, funzionano bene. Ma basta, basta che chiarare, andiamo giustamente ad ascoltare. Grazie a tutti. Eh sì, bene ma non benissimo. Il suono, grazie a questa sua struttura verticale, dovete percepire anche dal mio microfono, è ampio. Quindi effettivamente lo possiamo collocare in qualsiasi posizione, nella nostra stanza, oppure l'aperto, e il suono effettivamente si andrà a spandere in maniera effettivamente molto gradevole. Ma qualche problema c'è. Ma prima di passare le pacelline andrò a fare una prova cattivissima. Seguitemi. Pronti per una delle prove più estreme che avevate mai visto su questo canale. Perché sì, lui è Epic 6, ma andarlo a spruzzare con un oggetto a pressione della doccia, effettivamente è una bella, bella prova. Andiamo, facciamo partire la musica? Ebbene, si è spento, quindi sì spruzzabile, ma senza esagerare. Bello che è andato in protezione, sembra quando è rilevato troppa acqua. Vediamo un po' se funziona. La spia blu è sempre rimasta accesa. Quindi? Eh sì, anche il Epic 6 è promosso. Non ci credete? Ultima prova? Ha ricevuto una tonnellata d'acqua addosso, ma ragazzi, funziona ancora. E quindi, pacelline. Eh sì, devo ammetterlo. Nello spezzone di poco fa ero convinto di averlo ucciso. E invece no, effettivamente lui è andato in protezione. Ovviamente, in qualche modo, lui rileva il fatto che c'era tanta acqua, si era formata effettivamente una pozzangherona qui sopra, intorno alla manopola del volume, e ha iniziato a lampeggiare e si è interrotta la riproduzione. Però effettivamente, scolata quell'acqua, l'avete visto, è riprimuta qui, puff, è ripartito e funziona perfettamente. Quindi, bello, 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 ma dicevamo, iniziamo come sempre, da quello che è il suono. Allora, potenza gli do 9. Allora, perché non gli do il voto pieno? Perché in realtà, lui, in uno spazio chiuso, ha potenza esuberante e non distorce. Quindi, sarebbe da 10. Però effettivamente, anche essendo i PX6, è pensato per l'utilizzo all'aperto vicino alla piscina. E quando siamo all'aperto, il suono così ampio e spaziale, insomma, un po' si disperde. E lì, i 40 watt, insomma, non sono poi così tanti come all'interno. Banale, ma da segnalare. Bassi gli do 8. Ragazzi, un bel basso, anche controllato, come piace a me. Attenzione, però, con l'impostazione vocal, quella con la lucina spenta dietro. Quando passiamo, appunto, a lucina bianca, il basso comincia a diventare esuberante. Quando passiamo alla lucina verde, ve l'ho detto poco fa, ragazzi, i medi e alti crollano così, terribilmente, insomma, per me, inascoltabile, soltanto per alcuni generi può essere gradevole. Ma comunque, sempre stando sulla vocal, i medi sono comunque leggermente indietro. Sopra la sufficienza, ma leggermente indietro. Lo stesso gli alti, sopra la sufficienza, ma non brillanti, come piace a me. Il vero problema è quando arriviamo a parlare di dettaglio. Quando abbiamo soltanto un basso, soltanto una voce, soltanto, non lo so, un piatto della batteria, bene. Tutti insieme si impastano. Non tantissimo, ma qui dobbiamo fermarci alla sufficienza. Sei. Di conseguenza, è l'eleganza, no? Pratico, divertente, fantastico per le feste con gli amici, ma, insomma, per gli ascolti dell'alta fedeltà, no, insomma. Appena sufficiente come eleganza. Ma andiamo a vedere, in realtà, cos'è che mi piace di questo speaker. La prima cosa, comunque, è la potenza. 40 Watt, in questo aggeggino, pesicchia il ragazzo, anche per i suoi 6600 mAh di batteria all'interno, ma, insomma, 40 Watt, belli muscolosi, ci sono. Mi piace il fatto di trovare tanti controlli. Io detesto quel fatto di avere male solo due tasti, sia per il volume, sia per l'avanzamento traccia, che devi ricordarti le combinazioni di pressioni singole e lunghe, no. Qui il volume ha la sua manopolona, l'avanzamento traccia ha i suoi tastini. Brava, Tronsmart! Mi piace il fatto che ci siano queste tre equalizzazioni, quindi possiamo avere sia un suono equilibrato, come piace a me, sia pompato sui bassi, come piace, lo so, a molti di voi, sia esagerato sui bassi, ammusciato sui medi alti, che, evidentemente, a qualcuno può piacere. Però possiamo scegliere. Ottimo! Mi piace il fatto che sia anche un powerbank, quindi siamo appunto a bordo piscina, il nostro cellulare sta morendo, se abbiamo il cavetto dietro, lo attecchiamo qui dietro e via. Volendo, qui dietro, ricordo, possiamo anche utilizzarlo per leggere dei file su pennetta, i microSD, quindi se vogliamo staccare i fili, non vogliamo avere scocciature dal lavoro, dalla ex, dagli amici, quello che vogliamo, mettiamo dentro appunto una schedina, cellulare spento e la musica ce l'ascoltiamo. Ultima cosa, il prezzo, siamo attualmente sui 65 euro, vi lascio il link in descrizione, e attenzione, in descrizione vi lascio anche un coupon sconto, ma parte da domani. Domani Ferragosto, ragazzi, buon Ferragosto, godetevelo, e insomma se volete fare shopping e Ferragosto vi lascio appunto un coupon sconto, valido due settimane, qui sotto per l'acquisto di lui. E invece cos'è che non mi piace? Sono due aspetti, ma ve l'ho già detto durante la recensione, il controllo del volume che è approssimativo, quindi grossi movimenti vengono percepiti, piccoli movimenti, quindi se dobbiamo fare delle piccole regolazioni, insomma non vengono percepite. Seconda cosa, il via voce probabilmente è dovuto al fatto che appunto è IPX6, resistente agli spruzzi d'acqua, come abbiamo verificato, il via voce rimane sensibile solo se stiamo a un massimo a un mezzo metro di distanza, di più si perde. Bene ragazzi, anche questa recensione è conclusa, approfitto per augurarvi ancora uno splendido Ferragosto e mi raccomando restate sul canale, belli iscritti, perché di video ce ne stanno tanti altri in arrivo. Ciao a tutti e al prossimo!